Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi oggi come avrete potuto notare dal titolo abbiamo un video a tema rosa tutti i trigger che vi farò ascoltare in questo video saranno prodotti di colore rosa o qualcosina di già visto ma qualcosina di nuovo avrete visto tutto nell'anteprima direi e voglio partire un secondo con questo braccialettino qui le mie uniche sono tipo fosforescente ancora lo sono buonato e questo è il nostro corso a tutto questo suono sono scolta dalle cuffie quindi spero venga bene anche spero venga bene anche che non sia troppo forte questo è un braccioletto di mia madre molto molto vecchio che non indossa più e quindi l'ho sequestrato di tutto il canale non ho mai avuto occasione di farvelo sentire in tipo due anni non l'ho mai praticamente sfruttato a parte in qualche parte come accessorio non ho che faccio tutto l'ho mai in grado Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info come potrete notare, forse spero dallo sfondo, ho provato a mettere una lampada smart dietro di me ma non fa il raggio di luce che speravo, è una lampada che avevo già in casa e spero facesse un po' di più, invece no quindi mi sa che in futuro comprenanti c'è l'attrezzo opposto, ecco, è una cosa di chiesa ok, perdonate se praticamente non vi ho guardato, non vi stavo accorgendo che stavo guardando solo mi sto prendendo conto che stavo guardando solo lì, lì e non voi, dispiace ok passiamo al secondo suono che qui ne abbiamo tantissimi il secondo suono è di un oggetto che non vi ho mai mostrato sul canale e poi ce l'ho preso da ormai tre mesi se non sei, non ricordo se l'ho preso a giugno o dicembre l'ho preso a Vienna in un negozio chiamato HEMA dove non vedrò di tornare perché è un casino di cosine perfette per il canale io ho due tipo vestoni l'ho preso l'ho preso l'ho preso l'ho preso l'ho preso l'ho preso e l'ho preso Grazie per la visione Scriculante Scusate, mi sto relazando completamente E come aprire, sapete, tipo i libri pop-up? Ho anche quello più piccolo, che è effettivamente un pochino più rosa Questo è più rosa, rosa, rosa e questo è per gli altri Rosa arancione Sembra un tacos Guardando la foto camera, mi rendo conto che colori vengono questo più fluo di quanto sia natale E questo è un pochino più scuro È troppo bellissimo È troppo bellissimo Che cosa vuol dire un pochino È troppo bellissimo Che cosa vuol dire un pochino E questo vuol dire un pochino un po gore ok Questo libro è di Rossella Miglia, non so, ed è comunque venduto tante copie secondo me ed è il libro sull'armocromia, vedete. Io ve lo assicuro, non ho capito minimamente di che stagione sono, non è colpa sua però. Ho alcuni indizi dell'inverno e alcuni indizi della primavera. La mia palette preferita è quella dell'autunno, questa qui. Ma probabilmente io sono questa, però ho altri indizi che proprio non sono così, quindi non capisco. Secondo voi sto bene con questi colori? Anche perché c'è scritto che io, tra l'altro io pensavo di avere un sottotono caldo, non lo so regga. Possibile essere in terra ma con sottotono caldo, tipo leggermente giallino, forse sì. So solo, io sospetto inverno perché è l'unico, poi non vuol dire niente, però l'unico acquista bene il bianco, questo. Il bianco proprio ottico. Innestamente mi sono accorta che secondo me mi sta molto bene quel colore e me ne sono accorta provandomi dei vestiti della sposa che comunque non mi sbatteva il bianco proprio ottico. Chissà se l'ho scelto. Comunque, quindi penso di essere inverno anche perché penso mi stia abbastanza bene il blu e poi mi sta bene il rosso freddo. Però ripeto, veramente a me sono semplici anche i colori caldi, non penso di star male con l'arancione. Non lo capisco, non lo capisco. E d'altro canto, i colori che mi stanno peggio sono tipo il corallo, tipo questo, vedete che non ci azzecca niente con il mio colorito e con le mie mani. Non ci azzecca niente. Cioè questo invece penso mi stia molto meglio. Cosa ne dite? Quando penso. Eltre foggio ero anche sotto. Intruttore penso. Tipo. Eltre foglia. Propriaca. Anche a la mamma. C freue augmente per l'amuza. Grazie. 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 Bellissimo questo suono, è decisamente una I, questa è una O, questa è una I, comunque vi consiglio questo libro, costa poco ed è proprio anche molto interessante. Devo dire, e magari è carino perché se lo si può leggere lo posso leggere io, poi lo posso dare a una mia amica eccetera. Molto bene la Vatbomb è stato uno dei fail che hanno fatto più male, insieme a forse tipo la sabbia cinetica e a poco altro. Ho pensato di parare con i Pop Rocks, però poi mi sono detta no, è proprio così in principio, la Vatbomb faceva schifo. E anche che delusione, vabbè, comunque, da un po', non si vede più molto deluso perché sono rimasto proprio male. Comunque, riprendiamoci con un trigger sicuro, va bene? Vi voglio consolare per bene. Quindi vi voglio far sentire le perline in gel. Il problema di queste perline in gel è che ne compro sempre di nuove perché le perline in gel è diventano sempre più piccole, non so proprio come dire. E quindi ogni torno a farle comprate. Allora, torno a farle comprate. Allora, torno a farle comprate. Tra l'altro ho preso ispirazione per questo oggetto di una certa influencer che l'ho utilizzato in un suo video recente. Avete visto quel video? Io trovo questo suono. complicated kinds non lavorare. Per andare a Shoah Prend нат end candidato a cerco dei incontri, ma pensare per altre persone. Spermi sprazori Abita educata hanging Imprav breeding Disparmi Dig un po' di più tra l'altro è anche proprio bello, guarda che figata è proprio soddisfacente è proprio soddisfacente Sì il po' bella che sta cover ok molto bella che sono queste plastiche hier leggero che scrocchi avrò mica peccato il prossimo trigger si tratta di queste applicazioni che avete già visto ma questa volta proviamo a sfregarle una contro l'altra e fa un suono super particolare che ci sono che ci sono ok a presto 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 a presto